Un Super Villa 2015 cala il pocherissimo alla Baggi Galupo, Vasto Marina continua a sperare nella salvezza, rivolgendo i nastri Villa con il solito 4-2-3-1 di Incecco Rossi e Piccozzi alle spalle di Tacchi, Baggi Galupo con il tridente Letto Fieroni d'Andrea. Fischio d'inizio di H. Paul Yekumere, a partire meglio, sono gli ospiti che creano le prime insidie. Al quarto Fieroni da centro aria viene ribattuto, poi ancora il numero 9 destro dai 12 metri con il pallone che centra il palo. Al diciannovesimo a passare il Villa, ottimo il passaggio a tagliare il campo di Tacchi per l'inserimento di Piccozzi che supera Galante e l'appoggia in rete per il primo gol in campionato. La reazione bianca-azzurra non si fa attendere, Fieroni si presenta tu per tu con D'Angelo ma spara alle stelle. Al trentaseiesimo punizione dal vertice destro dell'area della battuta, si incarica di Pentima, parabola da vedere, rivedere, sfera che bacia l'incrocio dei pali e si insacca per il 2-0. Tre giri di lancette più tardi, Letto si coordina al volo ma trova deviazione e corner dagli sviluppi, stacca Benedetti e Di Giovanni a ribattere sulla linea. Con le immagini di Simone Luciani nella ripresa, subito il diagonale di Fieroni che termina a fil di palo. Gli ospiti spariscono dal campo di Giovanni, prova il gol della domenica con la parabola da centrocampo che esce di pochissimo, mentre al ventiduesimo Tacchi si presenta tu per tu con Galante e Lofredda per il Trisvillese. L'unica sortita bianca-azzurra sui piedi del classe 2005, la Rivera, si destreggia il coetaneo D'Angelo nel rispondere. Villa che approfitta dell'amnesia vastese, prima con Rossi dagli sviluppi di un corner e poi con Piccozzi a rotonda per il definitivo 5-0. Termina dunque così un match da cancellare per il Vasto Marina, Villa che dimostra ancora una volta una netta crescita. Villa 2015, Baggi Galupo, Vasto Marina 5-0. Sì, oggi eravamo ancora più giovani, però i ragazzi veramente hanno dimostrato che hanno carattere, coraggio, coraggio di giocare a calcio. E finalmente oggi ci godiamo una grande vittoria meritata sotto tutti i punti di vista. L'obiettivo nostro è proprio questo, continuare, non ci diamo vinti a nessuno e anche oggi abbiamo dimostrato, essendo ultima in classifica, che giochiamo a calcio, palla a terra e abbiamo voglia di far bene e migliorare ancora. Oggi finalmente è arrivato anche il risultato, anche forse un po' troppo largo, però è successo alcune volte anche a noi, mi dispiace per gli avversari, però noi abbiamo giocato a calcio pensando a onorare il nostro impegno. Ma evidentemente non abbiamo capito la valenza, la difficoltà delle partite, poi oggettivamente questa era una gara che sostanzialmente celava tante insidie. Probabilmente non sono stato bravo io nemmeno a trasferirle queste motivazioni, queste importanze soprattutto di questa gara. Direi veramente non pervenuti tutti a iniziare da me, quindi alla fine la faccia ce la metto io, mi dispiace perché mi dispiace non averla giocata, non averla interpretata, non averci messo nulla, nulla in termini proprio generali. Quindi di fatto se proprio dovevamo prenderla una bambola è giusto ed è corretto che l'abbiamo presa oggi. Complimenti comunque al Villa che ci ha messo la faccia, ci ha messo l'impegno, ci ha messo tutto quello che c'era, quindi niente di che si va avanti. Naturalmente dobbiamo lavorare su questi alti e su questi bassi perché oggettivamente facciamo delle prestazioni proprio altanelanti, sembra veramente l'ula hop. Chiedo scusa eventualmente anche ai tifosi, alla dirigenza che fa sacrifici e niente, speriamo alla prossima di ripartire nel migliore dei modi.